Chiara Ballardini e Paola Filippini Spiriti narranti Edizione privata Comunicare con i defunti Comunicare con l'altra dimensione è possibile, certo non per tutti, ma per alcune persone che hanno questo dono che in realtà è un compito di grande responsabilità. Ci sono molte diverse modalità di vederli e contattarli, ma sempre si realizzano comunicazioni utili per loro e per chi vive nella materia. Molti sono convinti che i defunti non vadano disturbati, anche perché molti insegnamenti religiosi mantengono questo orientamento, ma è bene chiarire alcuni punti. Chi ha lasciato da poco il mondo fisico, nella maggior parte dei casi, desidera molto comunicare. A volte ha lasciato cose in sospeso, si preoccupa delle persone care che ha dovuto abbandonare, oppure ci sono proprio delle urgenze da chiarire, situazioni da sistemare. Così, non appena trovano la possibilità di farlo, attraverso coloro che sono canali, colgono subito l'occasione. E non è vero che vengono disturbati da questo comunicare, perché chi per qualunque motivo, non vuole o non può, non verrà mai a parlare. Diverso il caso quando un essere ha lasciato da molti anni la materia. In qualche caso può essersi già reincarnato, ma principalmente accade che avvenga un allontanamento dal mondo fisico, perché il naturale evolvere di uno spirito lo porta ad elevarsi, ad allontanarsi da quella vita. Così, prenderà le distanze dal mondo materiale e comincerà a dimenticare molte cose di quell'esistenza. Resteranno pochi ricordi e l'esperienza accumulata, gli insegnamenti recepiti. Allora, in questo caso, è bene non cercare un contatto, perché sarebbe una forzatura. Comunque, non si otterrebbe alcuna risposta. Ecco perché parlare con i defunti è possibile. È consigliabile nei primi tempi, quando molto c'è ancora da dire, i legami sono così forti da esigere chiarimenti e rassicurazioni, ma poi, col passare degli anni, è meglio non cercarli più. Comunque, nel tempo, cessano anche le urgenze, e non è più impellente la necessità di un contatto. Questo è quanto noi abbiamo compreso dai nostri contatti con tanti che hanno lasciato il piano fisico e che ci hanno dato in merito molte spiegazioni. Ciao! 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 Ciao!